Gli agenti della sezione Falchi tornati in sella a 5 motociclette di grossa cilindrata e scooter per pattugliare strade e vicoli sono l'orecchio della squadra mobile sulla città di Salerno. Così ha voluto definire questo nuovo gruppo di lavoro 25 giovani agenti, il questore di Salerno Alfredo Anzalone, persone giovani e motivate nella struttura esistente della squadra mobile per fare prevenzione ed intelligence nei luoghi più frequentati, per fare soste ovunque, entrare nei negozi e parlare con la gente. Una costola vincente per la squadra mobile di Salerno dove diventa sempre più fitta l'attività investigativa con quella repressiva. Adesso sono presenti e sono all'interno della squadra mobile e non sono finalizzati soltanto la prevenzione, quella la fanno da sé, una moto che gira e si capisce che dalla polizia di Stato fa prevenzione. C'è un'intelligenza alle spalle, quello mi piace sottolineare, perché quello che vedono, che sentono, che trattano da sbirri lo transiteranno invece poi alla sezione antirepine e sarà analizzato e oggetto attività investigativa. Perché secondo me la prevenzione da solo non basta, la repressione incide, incide notevolmente. Arrestare e aiutare un reato significa bloccare il fenomeno molto spesso. È capitato anche a Salerno che alcuni cittadini che sono comunitari e che stracomunitari avessero fatto centri anni di furti in appartamento. Quando li abbiamo arrestati il fenomeno è scomparso e quindi credono all'attività investigativa nella repressione. Lei ha detto un braccio operativo esterno alla mobile, con i falchi si rinforza anche il numero del personale di polizia in strada. Non è soltanto questione di numeri, è questione di abbiamo scelto gente che ha la testa necessaria per fare questo lavoro. Mettere gli uomini in divisa all'angolo della strada e prevenire è abbastanza facile, è gratuito. Noi non volevamo questo, vogliamo gente che pensa, che riflette, che analisi i dati e abbia una struttura di intelligenza che possa aiutarli a fare questo. Personale giovane e motivato? Esperto, è un misto. C'è gente giovane, c'è gente più anziana. Insieme saranno una forza. Mi piace pensare che questa cosa funzionerà.